Ma io vado a farvi frire, sì che stella è l'arda mia S'un anno e mezza via, traspare l'allegria Ma qualsiasi ammaria, non sa cosa che vuoi mangiare Gallerezza, questa cosa si è fatta assai a seria E il tamor non è buono perché non c'è la miseria E la moglie della casa si è fatta la giornata Con sette creature e la cucina studata Se fosse un bruscino e la ricavalla Sono tutta sua madre, non puoi chiudare A prima foro vascia, le guaglione Facevano parlare le cammonelle Di stracola e capelli in caldo gel Un langopo che si aveva una cucchia E la gente che abbassavano, rostavano cantate E stita murriate e nenne scabriciate Capo una ballata, guarda sempre chi va per qui Ma guaglione, non ha balla Non sono e non canta Si scipia un po' vinci Ma scena l'amante Si alliscia, si pitta Da vista e se lanza Ora ho potuto a murra Se vuoi riuscire con la panza E quando è attasata E se non è una bumbata Dove ti scopo, o trossi E se non è una bumbata E se non è una bumbata Se non è una bumbata Ed si chiul Quando mi sento una gianetta reda, che stai a fare? E ti fai una croce, mi hai detto mio? E poi tu vedi, tu io che non fai sentire la tua voce. Agnella, agnella, stai in banderro come ti desida. Sto sacca di ella, io veramente cado un pa' moneta. Ma è una risa, quando c'è chi vuota, o brigadierna cosa aveva passato. Mi sono figlia e mamma e padre ignota. Ehi signorini, ma siete già scordati, ma c'è partita, tante e tante voce. A notte, non te voglio, miei già figli. E lo vuoi dire? Guarda voi e sorda, che paga un coppa al verde e l'allegria. Si rompe un'alienza forte con un trattore. Ma deve economia, ma deve gusto. Sotto c'è sta cucina e poca l'ora. Sotto c'è un'alienza forte con un'alienza. Agnella, agnella, sei una bella dolore. Sotto c'è un'alienza forte con un'alienza forte con un'alienza forte con un'alienza forte. L'immaginazione, miseria, due temi forti dell'opera di Raffaele Viviani che nel 1932 scrive la commedia L'ultimo scugnizio. Il protagonista, Antonio Esposito, ha sempre vissuto gli espedienti. Ma, per il figlio che sta per nascere, ha deciso finalmente di cambiare vita. Per buttarsi alle spalle la precarietà del passato. Ma, Serri, voi dovresti mettere un po' di colla? Mamma mia! Ma, Serri, che stanno arrivando a 5-6 mesi? Ehi, che si rimane al mattino ai ghettopullo? Ma che capisci? Ma quanto male? O per chi? Avvocato! Avvocato! Avvocato Cazzullo! Siete l'avvocato Cazzullo! Razzulli! Avvocato Razzulli! Prego, Link! Avvocato, voi mi avete aiutato? Avete fatto qualche cosa? No! Avete bisogno dei miei servizi? No, veramente, ho saputo che a voi occorrono i miei servizi. Ma voi chi siete, scusate? Avvocato, ho un ex scugnizzo. Ma io non mi arrangiavi tutto in maniera, ma ora sono grosso. Venga saluto e voglio faticare. Sì, avvocato! Ma ma chi siete? Avete qualche documento? Avvocato, ma puoi sapere chi sono? Ma non ho fatto questo rumo, sanno tutto quanto. A quanto portavano, avevo tante femmine impalate per il cappotto e un cappellucchio soldato. E' buono. Avvocato, sono uno che ha un caso per impiegare. Perché hai capito che non è più l'epoca che cambia senza fare niente. Ma io ho bisogno di una persona che si interessa di tribunale, causa, sentenza. Sapete leggere e scrivere? Poco. Però la parlantina è buona, eh? Ma che me ne faccio? Ma come che me ne faccio? Ma io ho bisogno di un segretario vero e proprio, uno che capisca di causa, sentenza, tribunale. Avvocato, causa, sentenza, processo, tribunale. Stato a posto. Avvocato è materia mia? Stato. Avvocato. 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 Requisitore del Pubblico Ministero. Al ring. Parte civile. Parte penale. Articolo E. Articolo C. Un codice. Appunto per non giocare al ring. Non vi ricordo cosa c'è la memoria, ma una forte in fare naturale. E se no non mi permettevo di venire da voi. Capitina penale? Pulita. Un po' di notte. Un tuo cancino. Uiii. Eh 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 eh. Eh 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 eh. Avvocato, ma 80 anni senza fissa di morale. Allora del marciapieto, col frido, col chiovere. E quando volevo urminerlo con la copierta mi facevo arrestarmi. Eh 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 eh. Ma io vi posso essere studiato tutto, Avvocato. Se qualcuno non va a fare. C'era di chi? Ecco, buono, che forza vi faccio papà? Cosa faccio il cioccolato e faccio con me? Avvocato che faccio puntiare, l'acqua roserina, ricchezza mobile, mobile a pulitura, pavimenti a cera, recitemi che ha già fatto. Una piccola cosomessa, un vestito quando volete, un narrato in un cane fedele, l'assicurazione sulla vita e contro i furti. Avvocato, chi le mari vuole? Quando sanno che ci stanno qui? Dicono, e chi ci ha mai fatto più? Ma dove stai essere un bello dico? Avvocato, che nessuno ti ha passato, vuoi? E l'ha già passato! E' il primo che mi ha dato la fiducia già da stare. E se tutto quanto mi credo nel porto, sta raggiando tutta la vita in mezza via. Come ti chiede? Donio Esposito. Tu padre, tu padre? Avvocato, nessuno. Però... ...mo... ...tengano un anno. E se ti vuoi? Fatti di tutto! Avvocato. E dici, ma com'è già riuscita? L'unico peccato mio è che ha già fatto un malamento a una buona guai. Pur! Avvocato. Avvocato. Però capitemi. Prima che quello è grave. E io mi lascio a scusare. E se il nostro figlio mi ha chiesto. E faccio la seconda edizione rupata che non c'è nessuno. Avvocato. No, Avvocato. Figlio mi ha dato l'europata e la mamma. Se non mi ha scusato il treno sotto i piedi. E se trovi la rossa, le dammi che sapete. Avvocato. No, Avvocato. Figlio mi... Non ha da sapere che significa non avere genitori. Avvocato. 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 E quando ha fatto? Avvocato. Avvocato! Avvocato, questa è una a sola. Alle vanni mettano in buona. Avvocato. Avvocato che ha detto? Avvocato. Ha detto anche sì! Avvocato. Avvocato. io ci ho parlato con la vostra signora e mi ha fatto pure una buona accoglienza mi sono fatto un dovere di andare da donna palmiro per far mettere una buona parola per conto mio figuratevi andate allo studio e vedete che potete fare e poi ho avuto la fortunato di incontrarvi qua ma tu hai commesso un grave errore ma quella non è la mia signora avvocato io non mi permettevo è la vostra amante nemmeno nemmeno avvocato io mi vengo tutte le sere quando prima di volare in tuo palazzo e guardate attorno per vedere si può avere nessuno dovete sapere che sono il basso di riporto dalla mia fidanzata e quando voi arrivate non sappiamo che non ci sono studiato per fare una coppa corrente quando venite noi venite a voi e voi venite a noi per cominciare a darvi una prima prova di fedeltà venite statevi accorto carin da stiorno marito donna palmiro da tornare a sardegna e marito chi l'ha conosciuto che è una brutta pelle avvocato voi siete un signore e voi conviderà la scatola e va bene e va bene ho capito tutto facciamo così ci vediamo domani mattina all'ufficio grazie avvocato scallando me tutte le porte vostre pure le porte tue va va grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ed è qui che il sogno dello scomizzo svanisce. La notizia della morte del figlio appena nato precede il filo della speranza. Nonostante tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri e ricade in quel ruolo di povero ed emarginato, senza alcuna speranza di cambiamento. Grazie a tutti. la notizia di tutti i suoi svanisce di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri. la notizia di tutti i suoi svanisce di essere diversi dagli altri di una Grazie. 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 Guardate, guardate. Ho già pensato. E' quello che ti guarda non è mai abbastanza. E' per questo strubbile di mestia. Ehi. Ehi. No, non ti amo. Fai una cosa in tuo cuore. Ehi, non mi fai di chiacchia. Ehi. Guardate, questa è Volpa. E' Volpa? Mi hai fatto prima di andare a topa. Guardate che curaggio. Guardate. Tu tu. Tu tu mi fai bene. E' una mia mogiera. Perché mi ti dà pure il cinema? Eh, mi hai tenuto usato. Eh, che l'hai usato? Femmine. Oggi basta dire femmine e subito si tende una usata. Eh, parola perché l'hai usata, che ci fai? Eh, mi hai vengono da votare, ci sono sempre fatte questo. Commentatore, io sei qui. Tu, tu? Ma questo chi è? Eh, questo è un po' che ha borzani, si ha fatto 30 moli uno. E questo non è niente. E sto solo vincendo uno circa e tutti i giorni io che penso. Eh? Eh? Commentatore, vi prego, date un'occhiata a questo quadro. Questa antiquità di roba docentesca, centocinquantesca, non arriva a centovinticinquesca. Il bagno di Dianne. Dianne che si sciaffa dentro al bagno. Ah, è molto scomposta. All'epoca si usava così. Sì, sì, signore, io da quando la conosco a Dianne è sempre andata in giro così, senza camicia. Eh? Commentatore, chi se lo quadra, caso di chi può di internare se può accattare. Io capito. Questa è roba rubata. Voglio la chi vuole far passare su e vattene all'occhio. Commentatore, mi ha rubato da un soldato alleato nel museo di Parigi. Ah. Pensate, ci hanno luato il fine e ci hanno messo il Fabazio. Fabazio sta là e il fine è venuto a mano a te. Ecco che, questo soldato, questo mio signore se ne è venuto a me. Se credevano che ero Fabazio, invece ero fine. Però è bello, ecco qua. Commentatore, guardate questa cornice, non se ne fanno più. Eh? E tenete a mente questa tele, l'urito rompia. Uh, Dotto, guarda, telefono, dai tuoi a me. Riusci in me, fallo paparone. Commentatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cos'è qui? Uh, l'avvocato di Giovanni. Come mai da queste parti? Sono venuta a rilevare mio marito. Tutto bene? Tutto bene. Ha vinto 500 mila lire al ciccolo. Auguri. Eh, avvocato, vi prego. D'annacchia da questo cuaro. S'ho scostato la pezzina. Fate, fate. Avvocato, che ne dite? Eh, bene, magnifico. Avvocato, lo hai in mano all'occhio? Ma io stavo dando un'occhiata. Avvocato, lo hai in mano? Ma io faccio maniare senza niente. Avvocato, che non dici te lo con? È bello, ma è falso. Ah, adesso ho capito. Ma tu facevo saponare? Ma perché? Tu lo fai? Io faccio i ricattieri senza ricattare nessuno. Combinato, ve l'ho detto, quel selfino, il falso sta a Parigi. Eh, ma se questo era il film, vi sanno quanto tempo me lo sarei comprato. Ma voi volete scherzare? Ah, fammi piacere. Guardate il taglio della panza come è concorto. Avvocato, aiutatava? Ah, 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 un attimo. La perizia. La perizia. Gesù, 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 ma tu hai ragione. Ma chi sei un pinturicchio? Eh, per la giurità chi sei un cannulino? Benararo, pinturicchio è un vittore del Cinquecento. È detto da lui che l'intenditore non si discute. La guerra, l'occupazione tedesca, perché io volevo che pensavo a Frampellicchio è il logo. Pinturicchio! Ma buona, voga. Eh, beh. Dunque, con me è nato, in un po' posso venire per fine, perché per me è falso, voi mi fate per fine e poi vengo per falso. Ma tu hai stato fatto a falso o per fine? No, voi mi fate per fine e voi vengo per falso, è falso, ma è fine. Ma non stai niente la capa di falso, è fine, chiesto che ne è? È falso fino! È che porno? L'importante è che voi me lo pagate per fino. Eh, e quando l'avete comprato per falso, l'avete pagato per fine? È stato a posto! Eh, quanto costerebbe, guarda, però non facciamo da mo' perché l'ha già valorizzato di sparare. Ma voi come state facendo? No, te le mani, scusate! Veramente, te le mani prima mia. Sopendato, me lo compro io. Però, visto...